Ok, per questo esercizio partiamo da una posizione retta. Il braccio dovrà finire sulla spalla opposta, così come il control laterale. Incliniamo anche mentre il busto ne avanti e andiamo sulla gamba sola. Da qui ruotiamo la panca verso l'esterno e poi portarla verso l'interno. Rimanete bene in equilibrio sulla vostra gamba sola, cercando di lavorare bene con il piede, il ginocchio e la barca.